Musica Oggi chiudiamo la prima nostra edizione del Maggio dei Libri a Soveria e Decollatura. Si chiude simbolicamente in un luogo che è un parco storico, culturale e paesaggistico di Adami e parliamo di un libro scritto da Carmine Lupia e da Raffaele Lupia sulle Valli Cupe, il tesoro meglio custodito d'Europa. Le Valli Cupe sono un esempio di un luogo che è stato valorizzato, che è stato scoperto, valorizzato e che è diventato uno dei posti paesaggisticamente più belli della Calabria. In tutta la rassegna abbiamo voluto tenere insieme il ragionamento sulla cultura, sui libri, sulla lettura ma anche sull'ambiente, il paesaggio e il territorio e questa sera appunto si parlerà molto di paesaggio. Grazie. 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 Grazie.